Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Viella che si intitola Le terre dei baroni ribelli, poteri feudali e rendita signorile nel mezzogiorno aragonese di Luciano Petracca che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e che ci parlerà di questo nuovo saggio e io come mia abitudine lascio subito la parola all'ospite perché l'argomento è molto interessante. Quindi prego a lei dottoressa, prego. Grazie, buongiorno, ringrazio subito il dottor Calì per l'invito e approfitto di questo spazio e della vostra pazienza per presentarvi i risultati di questa mia ultima ricerca. Vi faccio così subito vedere il libro e come è stato anticipato il titolo è Le terre dei baroni ribelli con un sottotitolo Poteri feudali e rendita signorile nel mezzogiorno aragonese. Diciamo subito che il tema dei poteri signorili nell'Italia tardo-medievale è tornato di recente al centro del dibattito storiografico e alimentato anche da ricerche che proprio negli ultimi anni hanno messo in luce aspetti a lungo trascurati come ad esempio la natura e l'origine dei diritti esercitati dei signori sulla popolazione sottoposta o come le forme di amministrazione e di gestione del feudo, le pratiche di prelievo o ancora il grado di pervasività per usare un termine caro a Sandro Carocci, la pervasività dei signori appunto sui sottoposti, sui vassalli. Ora riguardo al mezzogiorno quattrocentesco e nello specifico al mezzogiorno aragonese, il prevalente interesse per la dimensione politica della signoria ha spesso lasciato in ombre il ruolo e l'impatto economico della stessa e quindi questa ricerca ha preso avvio da alcuni interrogativi tipo qual era la struttura e la composizione della rendita feudale, quanto potevano incidere le varie componenti del prelievo signorile sull'ammontare complessivo di questo reddito feudale o ancora in che misura poteva cambiare la composizione del bilancio tra le diverse aree geografiche quindi tra le diverse province del regno di Napoli o tra differenti tipologie di signori. Quindi ripeto questi sono stati i principali interrogativi da cui ha preso avvio la ricerca focalizzata appunto sui poteri feudali e sulla rendita signorile nel quattrocento meridionale in particolare data la natura della fonte considerata nel secondo quattrocento e il tutto diciamo lo studio si è diciamo orientato nel tentativo di ripeto rispondere a questi interrogativi e quindi il libro oltre a ricostruire l'estensione territoriale di alcune delle principali signorie meridionali vedremo poi quali sono soprattutto quelle che sono stati oggetto di confisca da parte della corona aragonese a seguito della grande congiura baronale che si è consumata nel 1485 e dicevo il libro approfondisce dunque il carattere economico del dominio feudale negli ultimi anni diverse sono state le fonti quattrocentesche prese in considerazione per approfondire la storia del regno di Napoli in particolare possiamo ricordare i dispacci diplomatici che si sono rivelati preziosi per cogliere dinamiche di relazioni tra gli stati per cogliere gli equilibri politici interni al regno di Napoli e soprattutto forse il ruolo giocato anche dagli attori coinvolti che erano sicuramente la monarchia la grande feudalità il baronaggio ma anche le comunità presenti nel regno però ecco oltre a queste fonti sicuramente ce ne sono delle altre che ad oggi non sono ancora sufficientemente state scandagliate e che invece consentirebbero di mettere in luce aspetti e temi diversi e faccio alcuni esempi come la tipologia e la struttura delle strutture insediative presenti nel regno o come ancora la vocazione territoriale delle diverse province le dinamiche demografiche quelle successorie ma anche la gestione del patrimonio feudale e la stessa rendita e questi sono sicuramente degli aspetti significativi oltre a quelli già abbondantemente indagati che consentono di aggiungere un tassello importante alla ricostruzione alla comprensione del 400 meridionale ma veniamo alla fonte che mi ha consentito diciamo di realizzare questo lavoro è un registro un libro abbastanza corposo diciamo accolto nel fondo dei relevi dell'archivio di stato di napoli dico due parole su questo fondo ecco il fondo dei relevi accoglie che cosa le richieste di successione che i feudatari inoltravano alla reggia camera della sommaria che era il principale ufficio finanziario del regno nel 400 che mi riferisco soprattutto al 400 in morte dei loro predecessori quindi richieste di successione corredate da tutta una serie di elenchi che andavano ad indicare menzionare tutte le entrate signorili quindi si tratta di una documentazione che veniva prodotta per essere esibita la reggia camera della sommaria ma oltre che a questi registri la documentazione è stata utilizzata in questo caso la documentazione confluita sempre nei relevi ma prodotta dai funzionari reggi a seguito di una importante congiura ed è la congiura baronale la grande congiura baronale del 1485 questa documentazione è stata prodotta a seguito della confisca dei feudi appartenuti ai baroni ribelli proprio con l'intento di censire i beni di questi baroni che venivano a quel punto requisiti dalla corona ho quindi consultato scritture dal carattere eminentemente finanziario sicuramente che venivano redatte proprio al fine di valutare ogni singola fonte di entrata del feudo e il relativo potenziale dello stesso in termini di produttività siamo di fronte a registri di contabilità ripeto che erano stati redatti e venivano compilati in loco cioè proprio presso le terre sottoposte sequestro dove i funzionari reggi venivano inviati qui attraverso alcune indagini inchieste ricognitive ed interrogatori si andava a ricostruire a determinare l'ammontare della rendita seniorile quindi mi ripeto nello specifico il la fonte che ha consentito la realizzazione del presente lavoro è un registro che ha il titolo libro singolare 242 e che ha permesso appunto di puntare il focus della riflessione proprio su una di quelle che la principale materia possiamo definire di negoziazione tra feudalità e sovrano giacché principale fonte di ricchezza per entrambi e dunque la terra il titolo riprende appunto questo termine le terre dei baroni ribelli perché la terra perché la terra è qui intesa come potere intesa come spazio all'interno del quale il signore esercita dei diritti che sono diritti pubblici e dai quali ricava reddito quindi oggetto privilegiato d'indagine sono stati appunto i domini signorili dell'intero regno dell'intera area meridionale e i poteri feudali e qui bisogna fare una precisazione perché la signoria meridionale è una signoria di tipo feudale in quanto esplicitamente o implicitamente legittimata dall'autorità regia e di tipo feudale è da considerare nel sud Italia appunto all'interno del regno la giurisdizione di tutti quei poteri che sono altri diversi rispetto al potere regio e il loro esercizio ma sono poteri che dipendono e sono stati legittimati direttamente dall'autorità sovrana lo stesso sovrano che poi nel momento in cui i baroni tradiscono requisisce tali beni grazie a questa documentazione da noi la possibilità di valutare il peso economico degli stessi feudi quindi ripeto questa documentazione ha consentito di ragionare sulla composizione e sulla struttura della rendita feudale sulle singole voci d'entrata e di mettere a che a confronto le diverse province del regno e i diversi feudi. È ovvio che la maggiore o minore vastità del feudo si è rivelata determinante per cogliere la portata economica di uno stato feudale e per stabilire anche una gerarchia interna al ceto baronale. È ovvio che a un'ampia estensione territoriale del possesso feudale corrispondeva a una maggiore disponibilità economica del suo titolare, una maggiore disponibilità anche militare e dunque un maggior peso politico e contrattuale nei confronti della corona. Quel peso che spesso ha rappresentato anche un serio pericolo e una minaccia per il sovrano per la pace interna al regno e per la sua stabilità. E quindi vediamo al momento storico e quello della congiura abbiamo detto a indurre in più occasioni i baroni napoletani, i baroni del regno alla rivolta fu essenzialmente possiamo dire l'ambizione di ampliare i propri domini territoriali e di incrementare in pari tempo le fonti di reddito, il patrimonio e il prestigio della propria casata. Si vedrà nel libro come le principali famiglie coinvolte nella congiura sono le famiglie più importanti del regno, sono i Sanseverino, sono i Caracciolo, sono i del Valzo e quindi ovviamente per loro la ribellione nasceva proprio dal desiderio di ampliare il proprio dominio e sarà questo patrimonio del ceto baronale, il valore economico del feudo che qui è appunto oggetto di riflessione e sono questi gli aspetti che il libro stenta almeno di prendere in considerazione e di approfondire. Siamo sullo sfondo, come ho detto, di un periodo storico che si presenta politicamente e militarmente tribolato. Siamo nell'ottica di un rapporto tra monarchia e feudalità che è sempre giocato sul filo del rasoio, quindi ora ci si allea ma poi i baroni sono subito pronti a tradire e quindi di tale importanza per il sovrano e quindi per i suoi ufficiali, i suoi funzionari era appunto la ricognizione di quel patrimonio signorile, definire la composizione e l'ammontare di una rendita nel momento in cui venivano requisiti appunto questi beni, una rendita che andava al di là per i baroni abbiamo detto del piano diciamo di un'importanza sul piano meramente esclusivamente economico, giacché proprio in ragione della territorialità e della dimensione del feudo, la valenza del feudo investiva anche appieno anche un ruolo politico. Ora il tema della rendita o del reddito feudale come suggeriva lo studioso Giuseppe Gialasso è stato in realtà ampiamente affrontato però soprattutto dai modernisti, quindi soprattutto per quanto riguarda la storia della feudalità in età moderna, molto meno in età medievale, si sta ovviamente cercando di recuperare il tempo perduto però molto resta ancora da approfondire e ripeto soprattutto per quanto riguarda il significato economico del dominio feudale. Sicuramente lo scandaglio di tutti i libri dei relevi e potrebbe far emergere questo aspetto economico in maniera molto vivida, in maniera molto chiara anche se siamo di fronte ad una documentazione veramente notevole e quindi richiederebbe sicuramente un lavoro d'equip di più di più studiosi. Io ripeto mi sono concentrata su un unico registro che è quello che è stato redatto immediatamente dopo la confisco operata al danni dei dei ribelli. Ora prima di illustrare un altro aspetto i contenuti dei singoli capitoli di questa ricerca è forse opportuno richiamare un aspetto che riguardo agli studi sulla signoria è stato evidenziato piuttosto di recente e che forse meriterebbe una maggiore attenzione da parte degli specialisti anche se nello specifico la documentazione che io ho consultato me ne dà prova, me ne dà testimonianza ma non consente ulteriori approfondimenti. Però ripeto è noto che al pari di altri contesti geografici italiani ed europei anche nel regno il fenomeno signorile per quanto abbiamo detto risulti essere inglobato in una costruzione politico unitaria che è quella del regno esprimeva una pluralità di esiti e di forme e che noi possiamo sostanzialmente ricondurre a due tipologie di signoria tra loro coesistenti e interagenti. C'erano infatti le signorie territoriali sicuramente molto più diffuse ed erano signorie molto estese e compatte controllate da potenti dinastie e nate spesso dall'accorpamento di vari complessi feudali che a loro volta potevano essere articolati in su feudi ma c'erano anche sebbene in meno diffuse in forme più o meno residuali le cosiddette signorie personali attestate diciamo nella nostra documentazione laiche o ecclesiastiche che venivano esercitate per consuetudine su gruppi di famiglie queste famiglie contadine o no erano soggette a prestazioni ed obblighi anche alle volte ereditari che potevano essere in base ai contesti in base alle diverse situazioni più o meno gravosi ora in quest'ultimo caso in quello delle signorie personali le facoltà di comando e di prelievo dei signori non ricadevano uniformemente su tutto il feudo quindi su base territoriale ma venivano calibrate di volta in volta sulla scorta di variabili locali quindi sulla scorta di consuetudini patruizioni franchigie ma anche sulla scorta di variabili individuali che potevano essere la condizione socio economica dei sottoposti ovviamente diversa i rapporti personali di subordinazione che potevano ovviamente differire da vassallo a vassallo l'ampiezza e le produttività delle terre che date in concessione o anche la disponibilità o meno di animali da lavoro ma cosa ci permettono di ricostruire questi elenchi dei feudi perché la documentazione utilizzata non è altro che l'elenco di tutti questi feudi che vengono confiscati dalla corona e delle relative entrate da questi elenchi emerge soprattutto la spiccata varietà dei tributi e dei servizi che venivano imposti dai feudatari sulla popolazione rurale del regno in età aragonese gli stessi elenchi descrivono minuziosamente bene diritti signorili gravanti su tutte le comunità infeudate riguardo soprattutto a cosa allo sfruttamento della terra delle risorse agricoli e quindi compaiono censi terraggi decime fide erbaggi diritti quindi di pascolo diritti di pesca quindi sfruttamento delle risorse delle attività produttive del territorio e anche i diritti ovviamente legati all'amministrazione della giustizia quindi sebbene vi dia così qualche sintetica indicazione ma appare subito evidente quanto questa fonte questo libro singolare si confermi essere un prezioso prodotto documentario e questo ha permesso non solo di ricostruire a grandi linee l'estensione di alcuni dei principali domini feudali del mezzogiorno che sono stati oggetto di confisca e tra l'altro nel libro potete trovare in appendice anche delle mappe cartografiche che evidenziano diciamo l'estensione di questi domini feudali ma la stessa fonte ha consentito soprattutto di approfondire il carattere economico di cogliere la composizione del reddito signorile di cosa si componeva la struttura della appunto della rendita qual era il suo peso qual era la sua incidenza e quale le varie forme di prelievo diverse da provincia a provincia da feudo a feudo e anche all'interno dello stesso feudo gravanti sulle comunità sottoposte è ovvio che le signorie esaminate risultano esemplificative grosso modo di un modello di organizzazione di gestione del feudo e anche di un modello di esercizio dei diritti signorili su terre uomini che risulta essere grosso modo comune a tutto il mezzogiorno tardo medievale quindi abbiamo degli esempi che grosso modo appunto sono rappresentativi della vicenda signorile del del mezzogiorno d'italia ora il libro in sintesi si articola in tre parti nella prima che sicuramente è una necessaria premessa della seconda viene ricostruito il contesto storico e il contesto abbiamo detto è quello della seconda congiura dei baroni siamo tra gli anni ottanta e gli anni novanta del quindicesimo secolo ma viene ricostruito anche lo spazio geografico naturale antropico e quindi tutte le province del regno entro il quale entro questo spazio si svilupparono e si evolsero ora estendendo i propri confini ora contraendosi i principali complessi signorili del mezzogiorno d'italia e nello specifico quelli che furono incamerati dalla corona per fellonia dei loro titolari la terza parte invece del libro offre no scusate la seconda parte del libro dopo questa introduttiva è il cuore diciamo del delle ricerche restituisce la dichiarazione dei redditi possiamo dire di questi signori perché è come l'istantanea di tutte le entrate feudali che la fonte diciamo indagata inventari appunto dominio per dominio e luogo per luogo e quindi possiamo anche capire la natura di quelli che sono diciamo i cespiti incamerati dal signore che poi passeranno al re di questi cespiti si è cercato di delineare la natura l'origine la composizione la gestione e il valore economico e queste fonti di reddito sono state ripartite in quelle che risultano essere anche le principali ehm componenti del prelevo signorile mi riferisco a la quota giurisdizionale ovvero alle entrate legate all'amministrazione della giustizia sappiamo che i signori controllavano la giustizia civile e molti anche detenevano l'esercizio il controllo della giustizia penale sono entrate di natura fondiaria e quindi tutte le entrate legate alla sfruttamento delle risorse agricole ma sono anche entrate di natura immobiliare di natura possiamo dire patrimoniale ovvero tutti quegli immobili di proprietà del signore dei quali si ricavava reddito quindi forni mulini ehm e altre attrezzature ovviamente ehm produttive. Ora sia pur nell'impossibilità perché la fonte si riferisce a eh un arco di tempo circoscritto quindi di costruire per ciascuna signoria l'andamento diacronico delle entrate quindi di seguire nel tempo le oscillazioni diciamo di ciascuna fonte di reddito e questo ovviamente una condizione che è stata imposta eh dalla stessa fonte quindi dalla stessa singolarità del pezzo archivistico preso in esame però nonostante ciò i dati raccolti hanno sicuramente mi auguro almeno consentito di proporre una prima e anche se parziale eh valutazione del peso economico della signoria meridionale. Veniamo a quella che vi stavo anticipando prima ultima terza ed ultima parte del libro ecco questa eh offre invece delle schede eh biobigriografiche dei baroni ribelli. Chi erano questi baroni ribelli? Abbiamo anticipato alla gran parte appartenevano alla grande famiglia dei San Severino eh alleati con i del Balzo, alleati con i Caracciolo ma eh ci sono anche i Petrucci cioè ci sono tutti quei feudatari tutte quelle grandi famiglie che appunto eh posero ostacolarono in qualche modo il progetto politico di eh Ferrante ma che poi Ferrante riportò all'ordine a seguito eh appunto della repressione di tale congiura. Quindi ripeto schede biobigrafiche dei baroni ribelli corredate anche da tabelle e mappe cartografiche. Queste mappe cartografiche sono state realizzate attraverso i sistemi informatici geografici GIS grazie alla collaborazione del laboratorio geografico dell'Università del Salento e quindi corredano il eh il testo. Eh nelle tabelle ehm sono presentate raggruppate poi per provincia in ordine alfabetico tutti i diversi insediamenti ricadenti nei domini signorili che sono stati oggetto di confisca e in tale tabelle ho proposto anche ehm di riportare ho riportato anche la numerazione dei fuochi. Sia la numerazione dei fuochi che eh diciamo più conosciuta che è quella che risale al mille quattrocento quarantatré quarantasette quindi che attingiamo dal eh liber focorum eh del regno di Napoli appunto eh risalente agli anni quaranta del quattrocento ma anche quella numerazione che apposta sebbene relativamente a un discreto numero di centri in questa fonte che io ho preso in considerazione e quindi databile al mille e quattrocentonovantaquattro. Perché questo? Perché sebbene la numerazione focatica sia un indicatore imperfetto della volume della popolazione il dato eh si è rivelato funzionale alla individuazione di fluttuazioni demografiche che intervengono tra la metà e la fine del quattrocento. Fluttuazioni che in generale sono tendenzialmente ascendenti sia pur con sviluppi diversi diciamo da realtà a realtà da provincia a provincia ma che non mancano tuttavia di registrare anche importanti variazioni di segno negativo. Quindi grazie a questa numerazione possiamo risalire eh alle vicende anche del popolamento di alcuni insediamenti del mezzogiorno d'Italia e quindi vedere che per esempio alcuni centri hanno subito delle forti contrazioni. Quindi ci sono state delle dissessioni parziali o totali di alcune eh comunità e questo dovuto a cause varie. Quindi a episodi bellici ma anche allo scoppio di focolai epideici. Ora ehm per quanto quindi hm un altro aspetto che vorrei mettere in evidenza che emerge da questa documentazione è che per quanto limitato e circoscritto a poche forse piccole realtà feudali inizia però eh a verificarsi iniziano a verificarsi alcune situazioni e questo è provato dai documenti che provano cosa? L'aumento della pressione signorile. Quindi nella seconda metà del quattrocento in alcuni centri è evidente l'aumento della pressione signorile che anticiperebbe in questo caso al secondo quattrocento quelle prime avvisaglie di un progressivo peggioramento della condizione contadina che come sappiamo andrà a caratterizzare la storia delle campagne meridionali un po' per tutta l'età moderna. Ora riguardo all'epoca oggetto di studio e quindi il secondo quattrocento ci si può limitare a constatare che la presenza signorile risulta sicuramente più radicata, più incisiva e desosa soprattutto nelle comunità rurali minori e per giunte in quelle comunità stanziate in contesti periferici come poteva essere la provincia di terra d'Otranto. Su queste comunità in quanto a grado di pervasività il signore esercitava sicuramente un controllo più attento, più capillare, più profondo sulla popolazione infiodata condizionandone in vari modi la vita sociale, le attività economiche di queste famiglie che erano soprattutto famiglie contadine e prive dunque il più delle volte di quelle risorse politiche, culturali ed economiche che avrebbero potuto consentire loro di reagire al potere, alla pressione baronale. Si deve aggiungere un altro aspetto che a seguito dei mutamenti intervenuti nella geografia feudale di diverse province del regno proprio a causa della congiura e proprio a causa della dissoluzione dei grandi complessi signorili di metà quattrocento, per i nuovi baroni sicuramente fedeli a Ferrante ma investiti di feudi territorialmente più modesti, territorialmente più circoscritti e presso i quali sappiamo che non di rado essi stabilivano anche la propria residenza, sarebbe tornato più agevole per questi piccoli baroni condizionare sempre più in profondità la vita delle comunità soggettate. Ne abbiamo diversi esempi diciamo di questo aggravio della pressione signorile come dicevo soprattutto per quanto riguarda piccoli feudi di terra d'Otranto. Ma in generale veniamo a concludere il nostro discorso malgrado sfasature più o meno significative e malgrado il diverso grado di sviluppo socio-economico delle località infiudate, la diversa vocazione territoriale, le diverse condizioni ambientali e quindi la specificità dei diversi contesti, stiamo parlando di un territorio al steso qual è quello del regno di Napoli, la rendita fondiaria un po' ovunque costituisce di solito la quota più rilevante delle entrate feudali. Diciamo che si attesta grossomodo intorno al 45% del reddito complessivo, mentre quella giurisdizionale si attesta intorno al 43%, però anche qui sarebbe opportuno fare una precisazione perché molto spesso all'interno di quelle che erano le voci riscosse, le voci d'entrata del ballivo e quindi che possiamo indicare come entrate giurisdizionali rientravano anche tutta una serie di redditi provenienti dalla terra, quindi provenienti dallo sfruttamento agricolo. Quindi possiamo dire con certezza che la rendita di tipo agrario, la rendita fondiaria è sicuramente quella superiore, la maggiore rispetto alle altre voci. e poi c'è un 12% circa di rendita immobiliare. Ora, sicuramente è stato possibile fare una comparazione tra aree geografiche della composizione di questa rendita, ovvero di quanto incideva una voce rispetto alle altre nelle diverse province del Regno e anche una comparazione dell'incidenza del prelievo che il Signore esercitava sulla popolazione sottoposta per singolo fuoco. Ora, benché gli introiti maggiori, e qui ripeto, provenissero generalmente sempre dalle forme di prelievo sulla terra e quindi erano cenzi, terraggi, decime, file ed erbaggi, ecco si è potuto osservare cosa? Che la ripartizione percentuale di queste tre componenti del reddito, cioè quella giurisdizionale, quella fondiare e quella immobiliare variava da provincia a provincia. Quindi ci sono e emergono delle difformità regionali che riguardano anche l'assetto del prelievo in termini di rendita pro fuoco. Cosa vuol dire? Che c'erano signori che esercitavano una maggiore pressione per fuoco e signori che ne esercitavano meno. Ma non entro nel dettaglio e rimando ai lettori al libro. L'ultima considerazione, e chiudo con questa, riguarda quel 12% del reddito che possiamo legare al reddito che è il risultato, diciamo, delle entrate di tipo immobiliare. Si tratta di quelle attività che i modernisti definiscono come protoindustriali, quelle derivanti, diciamo, dal reddito immobiliare, che producono reddito immobiliare e che, stando anche ai più recenti indirizzi di ricerca, è possibile scorgere forse i primi segnali di questa imprenditorialità feudale proprio a partire dal Quattrocento. Sicuramente nell'età di Alfonso si assiste alla nascita e all'affermazione di un'economia zootecnica, ricordiamo la dogana delle pecore, quindi l'impegno nel favorire, diciamo, questo tipo di economia, fortemente appunto incentivata dai sovrani aragonesi. Quindi, da un lato, l'abbondante disponibilità di materia prima nella seconda metà del Quattrocento e i prezzi contenuti di questi prodotti contribuirono forse, senza altro possiamo dire, alla promozione e poi al successivo consolidamento, che si verificherà soprattutto in età moderna, di una protoindustria, chiamiamola così, laniera, regnicola, a gestione feudale, quindi promossa dagli stessi signori. Signori che, alcuni dei quali, soprattutto i maggiori, all'interno dei loro feudi, quindi dei centri che ricadevano sotto il loro controllo, promuovono l'allestimento di opifici, con specifiche macchine tessili, quindi ricorrono spesso i riferimenti a macchine come il battinderio o la gualchiera, che erano ad azione idraulica, che battevano e i tessuti per renderli più fini e compatti, quindi sicuramente c'è un'attenzione. E quindi concludo richiamando Giuseppe Galasso, perché? Perché sono, diciamo, delle riflessioni che lui sicuramente ha anticipato nel suo importante lavoro sulla Calabria del Cinquecento. Il baronaggio e quindi questi grandi signori intorno alla fine, seconda metà del Quattrocento, è come se da un lato cessassero di pensare solo ed esclusivamente ai titoli politici e pubblici del loro dominio fondiario e alla riscossione di imposte, ecenzi e diritti vari, per iniziare a prestare un maggiore interesse verso il potenziamento anche di attività economiche locali. Queste sono, diciamo, questa è una riflessione, sono parole di Galasso. Ma sicuramente si spiega in questo modo cosa? Sia la preminenza dei redditi ricavati da entrate fondiarie come cenzi e terraggi, evidenti nel, diciamo, in quello che è stato esaminato, e cenzi e terraggi altro non sono che il risultato della messa a valore, diretto o indiretta, di spazi sempre più ampi, sempre maggiori del demanio feudale. Come si spiegherebbero in questo modo anche quelle prime, forse ancora troppo timide, iniziative del ceto baronale nel settore protoindustriale, messo in evidenza proprio da quel 12% di una rendita che deriva proprio da queste attività industriali e imprenditoriali. Grazie. E' molto interessante l'argomento, anche perché è una fotografia di un periodo, ma è anche, come dire, offre la possibilità di comprendere lo sviluppo di un territorio come quello del regno di Napoli, no? E quindi ci sarebbe da parlarne per molte ore per poter entrare in questo argomento. Scusate, e io a questo punto devo ricordare il titolo perché così la gente può acquistare il volume e averne un'idea più chiara. Le terre dei baroni ribelli, poteri feudali e rendita signorile nel mezzogiorno aragonese. Appena pubblicato da Viella, l'autrice è Luciana Petracca, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospita e che ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. Ai nostri utenti ricordo di continuare a seguire Italia Medievale sul sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie ancora.